guarda che bello mi vedo davanti perché quel tipo ha già un clan non hanno perso tempo ma gibilter si i caricamenti non erano mai così nella beta della play come erano erano tipo normali con la mappa statica ferma classica da tipo 1.2 quanto vicino però dai oh dai già un po meglio già meglio è mesamente meglio con l'arma infatti stiamo giocando in quanti parlano in quanti parlano in quanti parlano basta urlare così no però ti prego devi sentire che il rumore fa quando uccidi uno non era mai così nella vita senti più l'ho ucciso col cecchino perché sono bravo poi corro con la pistola come si cambia la classe non puoi ora devi salire di livello che ti dai punti sblocco e sblocchi ma che monster scusami com'è che si rimuoveva il silenziatore che io l'ho messo non so come ah ma ho ucciso due così io ho sparato un colpo è bellissimo e io chiamo il mio il mio col dai che faccio la verità dai 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 yes minchia si con due metto il coso è vero c'era pure scritto no perché non era a casa dai no non si metti da dietro stanno arrivando amici scassando quindi si lanciano le granate le granate si no ti prego fa un cazzo la pistola come in tutti i code ma l'ho ancora imparato che le pistole possono uccidere che cazzo devo premere per chiamare il coso non me lo ricordo 5 dimmi che quel 5 significa si e boh non la chiamo più beh ho ucciso qualcuno con la ok e dai basta io che con due con due si dovrebbe prendere la pistola quanto dura ho questa parte di bombardamento ma è il mio bombardamento è il mio bombardamento sto facendo veramente schifo perché non riesco ad abituarmi a questo gioco anche perché quando miro miro più alto che dove sto mirando in realtà quindi non capisco perchè metto il disporno con me eh perchè fallo al balcone della torre ho ucciso uno gp mi hanno ucciso gp cookie monster no ti giuro adoro e basta che io con due devo che cazzo in tutti i giochi con due si prende il coso di mette il silenziatore ciao adoro il rumore di quando uccidi tutto molto laser con e o con f ah già è vero la v la v di mille io siamo sostituiti di spawn mi sa quello mi ha spawnato dietro io sono spawnato il suo spawn sei a secco eh ma si che devo ingrassare eh si dunci ma mi dice che ho problemi di connessione io se fa cagare il ciclo devo ricaricare eh non ma perchè fa schifo quel cecchino eh no non devi per forza usarlo tanto lo sblocchi dopo cioè te devi basta salire di livello poi sblocchi solo che vuoi ma gli spawn ma gli spawn è visto che giocheranno da un gol per uno mi spawnano tutti dietro jkwi che coglioni tutto ancora gli spawn devo imparare che cazzo hanno spawnato che cazzo che cazzo li imparano dagli occhioli ma e questo urla dai due colpi in faccia e non è morto ma sto cibo ma oh 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 come la grafico oh merda come mi code eeeeh compagno oh 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 la torre si è mancato proprio oggi non devi troppo sentire i rumori di quando uccidi uno da parte magari di gioco da quando il dm va più di 80 uccisioni beh come prima partita non sta andando male non doppia bici no 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 poi devi anche attaccarlo in caso abbia troppa vita ah beh l'arma si cambia con uno io continuavo a usare la rotellina poi ho premuto uno per sbaglio no non l'ho ucciso stavo prendendo l'ultima ricompensa uccisione ma non l'ho ucciso come funziona il mortaio mi hanno fatto ho fatto ho fatto la schiena 1 con la pistola poi lo tirano uccisione ai la mia no perchè non fa l'ultima chilo oh quella di solda questa qua è una vecchia qua ho fatto una scuola ma non è andata mai così cosa cazzo era sta kill destra sinistra doveva essere un rally in realtà erano 4 frame uniti grazie a tutti grazie a tutti